Ciao a tutti ragazzi e ragazzi, qui è Giochi che vi parlo, oggi siamo in un nuovo video di Clash Royale. Allora, quello che pensavo di fare oggi era appunto fare la sfida epica, che quando finisce tra un giorno, vabbè, polle. Completa la sfida epica con 9 vittorie, vinci carte epiche casuali, dalle ricompense progressive e rendi tuoi mazzi più epici. In teoria dovrebbe essere una draft challenge, se non sbaglio, eh, poi, boh, io ipotizzo. Allora, vediamo un po'. Stop, dai! No, non è una draft challenge. Ah, ok, quindi con il nostro mazzo, perfetto. Sono contro un russo. Oi, 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 aspetta un attimo, aspetta però. Fammi pensare perché qua va a rallenti. Perché va così lento, ragazzi, non lo sto capendo. Vabbè, allora, mettiamo la fornace. Ok, il droghetto... Nooo, che stronzo, ho messo la gelo, che stronzo. Vabbè, dai, 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 dai. Nooo, mi ha scioltato tutto, ragazzi. Mi ha sciolto i piani, come faccio adesso? Allora, con calma, adesso ripartiamo da sotto, quando arriva 10. Allora, arcieri. Olè! Ah, ma tanto ci sono i così qua. Bella. No, 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 perché l'ho messo lì? Perché sono scema, perché sono deficiente. Vabbè, vabbè, va benissimo così. Allora, mettiamo addomatore di cinghiali. Mi ha gelato tutto, mi ha gelato. Però io sto comunque facendo danno. È giù, è giù la torre. È giù la torre, ragazzi. Dai che gli facciamo tre corone. Dai che gli facciamo tre corone. Lui mi sa che si è reso, direi. Quindi, bella. Tre corone. Prima sfida, mi è piaciuta. Bella. Andata bene. Bella giocata! Ok, prima sfida andata bene. Allora, mettiamo il moschettiere dal fondo. Ok, allora, mettiamo... Ok, mettiamo il golem di ghiaccio. Va benissimo. Golem di ghiaccio, ha messo il moschettiere, ma va bene lo stesso. E volevo mettere il coso qua, ma mi sa che non ci riesco. Quindi, lasciamoli andare così. E vediamo cosa, se magari migliora qualcosa. Non gliela prendo la torre. No, vabbè. Rip. Allora, adesso lui verrà qua, ma viene ucciso subito. Quindi, magari, aspettiamo a fare l'azione quando arriviamo a dieci. Bene, siamo arrivati a dieci. Vabbè, aspettiamo. Che dobbiamo fare? Mettiamo il moschettiere. E poi... Non so, vuoi mettere... Sì, vabbè, aspetta. Troppa gente. Quanta gente sta mettendo questo. Oddio, oddio, oddio. Dai, dai, metti gli golem, metti gli golem. Non andare avanti! E vabbè, prenderà il moschettiere di mira. E la valchiria. Poi, non so, qualcun altro vuole mettere? Forse ci conviene andare a destra ad attaccare, perché già gli sgheri hanno fatto un po' di danno. Quindi intanto mettiamo gli arcieri per difenderci, anche se non serviva, ma va bene. Adesso, qui li lasciamo andare. Poi vediamo cosa fare a destra, perché inizierà ad attaccare a destra. Allora, moschettiere. Poi. Gente! Poi metto la fornace di qua. Il golem. E ti prego, dai, arriva a quattro che metto anche il coso qui. Non ha un nome il domatore oggi, si chiama coso. Dai, 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 ti prego, ti prego, metto... Eeeeee! Eeeeee! Dai, però... Come posso attaccare io se mi continuo a mettere i cosi qui? I brutti ceffi. Allora, arcieri. Così ci difendiamo dal domatore. Pronco, ma vabbè, ormai è morto, però vabbè, intanto il danno glielo facciamo. Qua mettiamo la fornace. Così ci difendiamo da moschettiere. Ok. E... Qua metto così. Allora, adesso, con calma. Con calma, con calma, con calma. Moschettiere per difenderci. Che ci ha già rotto la fornace. Poi, dai che ce la faccio stavolta a fare l'azione. Che ce le ho già pronti. Lo metto dietro. E domatore di cinghiali. Dai, dai, dai. No, perché ci metti questi che sono stronzi? Dai, però. Uffa. Mi rovinano l'azione. Non è possibile, però. Eeeh, poi... Vuoi mettere qualcun altro? Non lo so io. Allora, dai, dai, dai. Ok, raga. Due moschettieri, due moschettieri. Dai, 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 che ce la possiamo fare. Ce la possiamo fare. Uno. Ok, deathmatch. Dai, 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 dai. No, no. Vabbè. 782. Provo a fare... Magari il mod dopo. Dopo faccio una cosa. Non adesso. Aiuto. Proviamo così. Proviamo così. E vediamo come viene. Guarda, se mi metti i barbari scelti mi incazzo. Ho messo la lapide. Meglio la lapide che i barbari scelti. Dai. I barbari scelti. Dai, dai, dai. Bravo. Ha fatto una hit. Ha fatto una hit. Benissimo, benissimo. Dai, dai, dai. Andiamo davanti fuci. Stiamo conquistando la torre. Dai che la conquistiamo. Dai che la conquistiamo la torre noi. No, la Valkyria. Perché doveva mettere la Valkyria in mezzo? Maledetta Valkyria. Sì, poi... Allora, domatore. Due minuti. Addirittura due minuti di supplementari. Bella. Moschettiere. Lo uccidiamo così. Az. Ci ha messo quello. Prima farò una cosa. Domatore cinghiali, vai. Nel caso abbiamo la palla di fuoco che... Ci dà una mano. Bella. Abbiamo vinto. Quanto è che fa la palla di fuoco? Ah, bella. Bene. Abbiamo vinto. Seconda sfida vinta, ragazzi. Seconda sfida vinta. Stato è difficile, eh. Però... Contro Meuraine. Meuraine mi dispiace, ma abbiamo vinto noi stavolta. Terza sfida, signori. Terza sfida. Allora... Vediamo un po'. Lui è all'otto, io sono un nove. Questo è molto buono. No, aspetta. Perché è lui all'otto? Non lo sto capendo. Aspetta, aspetta, aspetta. Difendiamoci da questo brutto coso. Ok. Vediamo un po'. Allora, lo stregone di ghiaccio lo uccidiamo easy. No. Uffa. Vabbè, niente. Proviamo lo stesso. Ah, sarola. Vabbè. Vai, vai, vai. Ce la voglio fare. Vai, domatore. Vai, domatore. Ucciditi. No, per cui? Ho messo quel cosi, porca vacca. Perché li ha messi? Perché? Perché? Che pazienza che ci vuole. Vabbè. Allora, questi li facciamo arrivare qua. Tanto li uccide. Speriamo. No, eh. Oh, una hit non me la fai. Bravo. Bravo. Bravi. Mi è piaciuto. Mi è piaciuto. Partiamo con il moschettiere dal fondo. E lui ha messo lo stregore. Non mi piace. Quindi lo voglio subito... No. No, no, no. Sì. Sì, sì. Ci diamo così lo stregone. Anche se rimane... Ho ucciso lo stregone, la scintilla è rimasta viva. La scintilla, ragazzi. La scintilla, la scintilla, la scintilla, la scintilla. No. Ok, ok. Siamo vivi. Ok. Dai, moschettiere. Vai, moschettiere. Vai. Bravissimo. Guarda lì. Guarda lì che danno il moschettiere. Anche gli spiriti del fuoco vanno a segno. Vabbè, rega. Questa partita mi sta piacendo tantissimo. Adesso proviamo subito con la combo domatore e golem. Vai. No, vabbè. Tanto gli uccide tutti lui. Bravissimo. Vai, domatore. Vai, domatore. Spacca la torre. Bravissimo. Guardalo. Una hit. Domatore promosso, eh. Domatore promosso. Che ne dite? Appuntiamole tra corone e le due. Qui, visto che questo è un pirla, appuntiamo alle tre corone. Allora, allora, allora. Però dobbiamo giocarcela bene, eh. Perché lui ha messo quello lì e non mi piace. Mi facciamo così. Uh, dai che li prendo entrambi. Bella. Allora. Dai, dai, dai. Non prendermi il moschettiere. Non prendermi il moschettiere. Oh, quanto godo. Quanto godo. Allora, vai. Golem. Golem. Domatore. No. Vabbè, rischio. C'ho comunque gli sgherri. E arcieri. Azzarola. Ha messo quei cosi brutti. Vabbè, dai, dai, dai. Oh, bravo, bravo, bravo. C'è che siamo arrivati a tre. No! Lo spiegò che tre che lo doveva mettere adesso. Che eravamo arrivati a tre. Aspetta. Voglio provare a fare una cosa. La vinco così. E signori, la vinco così. Signori, la vince così. Con trenta di vita, la vince col tronco. Bravo, tronco. Bravo. Uh, ottieni. Devo per forza ottenerla adesso. Ah, no. Sì, per forza. Allora, un uomo un golfiera. No, tre mongolfieri. Scusatemi, non so leggere. Basta! Ah, quindi soltato una carta. Va bene, va bene, va bene. Allora, andiamo a tre mongolfieri. Perfetto. Adesso, battaglia. Dai che arriviamo a nove. Dai che arriviamo a nove. Dobbiamo arrivarci a nove. Molto veloce. Sarà molto lungo, mi sa, questo video. Perché se devo riprendere tutte le partite... Allora. Moschette... No. Parto con gli arcieri stavolta, dai. No, no, no. Non separatevi. Porca vacca. Vabbè, fa niente, fa niente. No. Questa è la torre inferno. Mi shotta il domatore così. Dai. Dai che le prendo entrambi. Va benissimo. Allora. Allora li lascio andare. Fa niente. Adesso devo capire... Ecco. Benissimo. Benissimo. Allora. No! Maledetto. Maledetto. Ha messo le frecce. Maledetto. Io vado di qua. Io vado di qua. Chi ha tolto adesso la torre inferno? Io vado di qua. Vai. No, 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 no. Vabbè, da lì l'abbiamo fatto. Perfetto. Dai, dai. Che vi prendo anche a voi. Perfetto, ragazzi. Perfetto. Allora. Concentriamoci. Concentriamoci. Io metterei un po' di difesa, però. Perché ho paura di come può attaccare lui. Quindi aspettiamo che arriviamo a dieci e mettiamo la fornace. Ecco, là. Fornace che li shotta subito coi cosi. I spiritelli. Benissimo. Adesso. Lui ha sprecato cinque delisive con i cosi, mi sembra, con gli sgherri. Quindi adesso mi concalma. Abbiamo già il golem e dopo, subito, dopo il domatore. Quindi subito. Vai. Non me ne frega niente. Andiamo. Roviniamoci la vita così. Vai. In preparazione mettiamo anche il tronco. Non si sa mai se ha già i cosi. No, non ce li abbiamo. Vabbè, noi li abbiamo messo. Uh, abbiamo preso anche i cosi. Ormai tutto si chiama cosi in questa partita. Questo video. Tutte le truppe si chiamano cosi. Eccoli, eccoli. No, perché ha messo gli sgherri? Volevo mettere il fornacce. Ah, vabbè. La torre loro è a 52. Loro, sua. Vabbè. La torre sua è 52. Dai, 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 dai. Una hit mi serve. Una hit dello sgherro. Bella, bravissimo, bravissimo. Adesso, arriviamo a 2. O a 3, come prima. Io punto a 3. Puntiamo a 3. Proviamo. Puntiamo a 3. No! Tutto tranne la cosa brutta lì. No, rega, no. La vanchiria, aiuto. Allola, allola, allola. Allola. Con calma. No. 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 Non lo so, vuoi mettere qualcuno qualcun altro? Allora, dai, ormai la torre inferno sta per andare a quel paese. Quindi, dai, 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 veloce. No, porco, no. No, 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 no. Ti prego, ti prego, ti prego. Ok, ok, ok. Allora. 18 secondi. No, perché ho messo la torre inferno? Mannaggia lui. Allora, aspetta. Tentiamo così. Tentiamo, tentiamo, tentiamo. Vai, 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 vai. Perfetto, andate. No! Vabbè, niente. Comunque abbiamo vinto, perché due secondi. Perfetto. Ah, anche questa partita è vinta. Non ci credo, sto andando bene, eh. Me la sono tirata tantissimo, però. Va bene. Era un cinese, ho battuto un cinese! Mi sa che questa sarà l'ultima della sfida, perché non voglio perderla. Non voglio perderla, ti prego, almeno questa. È già due di fila che ne perdo. Non va bene. Non va bene per niente. Allora, mettiamo la fornace lì. Sono le 13, io ho fame, quindi per favore, dobbiamo riuscire a vincerla questa. Ok, stregone elettrico. Proviamo così. Vai. Ok. Con calma, eh. Mi raccomando. Dai, dai, dai. Bravo, bravissimo. Con calma. Partiamo da sotto. Partiamo da sotto, come sempre. Adesso, quando arrivano lì, metto subito il golem. Eeeh! Eeeh! Poi, cosa vuoi mettere ancora? Che brutto, quel cosole ogni volta. Cosa hai messo? Ah, una strega. Ah, che palle. Facciamo così. Mettiamo 3000 fornaci. Poi magari muore, in qualche modo. Uh, guarda come l'hai shotto. Olè! Non hanno colpito. E glielo ho shotato. Madonna rega, quanto sono forti. Allora, allora, allora. Con calma. Facciamo così. No, 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 no. Ok, è morta. Perfetto. Allora, lui non mi ha ancora toccato le torri, eh. Contiamo questo. Va bene, va bene, va bene. Allora. Aiuto. Non me li sciotti, vero? Bella! No! Lo stregone! Maledetto stregone! Allora. Con calma, con calma, con calma, con calma. Bella è morto. Allora, allora, allora. Golem! Subito dietro il domatore. E ti prego, fa che, Dio, c'è la mal di buona. Dai, dai, dai. No! Lui! Perché lui? Sempre lui deve mettere. Oddio, quanta gente sta mettendo. No, almeno una hit, una. Bravo, bravissima, ha fatto una hit. Con me basta una hit dal domatore. E poi... Intanto è morto, eh. Bravo, moschettiere, bravo. Sto sudando. Allora. Dai, 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 bravissimi. Guarda come stanno arrivando in meta, vai. Se mette gli stregone elettrii come incazza. No, mi sono strega. Allora. Fornace, la mettiamo qui. Poi! Mettiamo. Mettiamo, mettiamo, mettiamo. Eh! Gente. Gente, gente. Troppa gente. Mi piace. No! La furia. Pure la furia. Quanta roba sta mettendo questo tipo. Guarda, 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 guarda. Dai, dai, che mette i cosi brutti, no? Dai, dai. Metti gli scheletri. Bella! Guarda come li ho uccisi. Bene, bene, bene. Sta andando benissimo. Perfetto. Perfetto. Allora, allora, aspetta un attimo che ho paura che me li shotta. E vabbè. Bene. Due moschettieri. Due moschettieri, ragazzi. Mettiamo anche il domatore. Vai, domatore. Vai, domatore. Dai, che si è reso. Vai, che si è reso il tipo. Bella! Abbiamo vinto. Bene, bene, bene. Abbiamo vinto la partita. Sono contentissima. Pensavo di perderla, quindi. Perfetto. Ah, anche il baule finale. Bella. Allora, sei vittorie. Vediamo un po' cosa ci dà. 600 di soldi. Di oro. 5 tesla. Due giganti. E... 18 sgarri. Vabbè. Vabbè, raga, è finita così. Prima di finirla, però, lo so che vedete quel bellissimo baule gigante, ma lo sbloccherò la prossima puntata. Facciamo però il baule della corona. Aprimo. Grazie. 605. 3 gemme. 2 razzi, che non uso mai. 20 scariche. 5 sartori di lisir. E 49 gold bellangeri. Vabbè, niente. È andata così oggi. Bene, ragazzi, questo video finisce qui. Mettete un bel like se vi è piaciuto il video. Lasciatevi commenti qui sotto. Mettete il mi piace alla pagina di Facebook, che troverete nella descrizione. Iscrivetevi se non l'avete già fatto. E ci vediamo in un prossimo video. Ciao! 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 Grazie.